Ho 51 anni, sono di Treviso e mi chiamo Casarino Gioacchino. Diciamo che prima di venire qua la mia vita è stata un macello perché già a 25 anni ho cominciato ad avere i primi problemi. I miei denti erano anche brutti esteticamente, però la cosa più brutta era che la mia parte superiore era proprio presa male. Erano praticamente i miei denti che mi creavano il problema anche nell'osso e facendomi questi preventivi ho conosciuto Palmas, il dottor Palmas e ho incominciato a guardare i suoi video ancora un anno prima che io venissi qui. Cioè sono rimasto colpito e mi sono fatto contattare. Ma intanto la tecnologia che usano qui e poi anche l'estetica perché io non ho mai, te l'ho detto anche prima, non ho mai avuto bei denti e quindi volevo anche avere un risultato bello. E qui ho visto che c'era anche quello perché io ho visto le arcate che fanno in Italia e quelle della bocca bionica sono differenti. E intanto cominciare a imparare, da imparare a sorridere perché non ero più capace. E poi, che ne so, sorridere. Molte persone che partono con l'idea e hanno avuto i problemi che ho avuto io quando vedono la possibilità di raggiungere uno scopo e vedono che il risultato sarà ottimo. Cioè quando ti guardi allo specchio e ti vedi come mi sono visto io prima mi veniva a piaggere. Solo qua. Però avere un bel sorriso è già tanta roba. Cioè non riesco neanche a trovare le parole per descrivere le persone che ho conosciuto. Le persone che ci lavorano sono stupende.